Siamo immediatamente spettacolo e riveliante, spostando il bascino indietro senza guardare a me. Ok, una volta che sono attese mi lascio andare giù, rilasso, testa, collo le spalle. Voglio farvi ripeterare i 5 minuti che abbiamo perso all'inizio, fronte, ginocchia, sinistro. Lascio andare giù, fronte, ginocchio, stendo, passando in centro, fronte, ginocchio, destro. Grazie. 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 Spiro, sul dedo, lentamente, ok, riposizioniamo, gambe in piede, spiego il bacino in avanti, il testo e la cattura, la mano sinistra scorre lungo la coscia e lo scorrimento serve a fare questo lavoro in maniera tale da non chiudere, quindi non vi dovete girare, scendo, sollevo il braccio a destra, allungo e fino a dove riesco, Spiro, senza chiedere le spalle, inspiro e spiro, chi libera riesce a tendere perché ha paura di cadere, eccetera, le piene leggermente flat, non è un problema, vi consiglio il piede scalzo o la calda di scivolo, perché facete che a non cadere piuttosto che ne per la scalda, eh, allungo, Allungo avanti, lentamente, e di nuovo al centro e lascio andare giusto. Grazie a tutti.